Se è arrivato un pignoramento presso il Comune di Pescara di svariate decine di miliardi di euro vuol dire che la situazione dell'ente è molto preoccupante e temiamo che questo si sia giunto anche al Ministro della Cultura, vorrebbe dire che Pescara ha sognato di diventare capitale dell'arte contemporanea e potrebbe essersi svegliata con un pignoramento presso il Ministro della Cultura. Nelle parole di Piero Giampietro, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Pescara, tutta la preoccupazione della situazione economico-finanziaria in cui si trova lente manifestazioni pescaresi. Il pignoramento arrivato, dicono quelli del PD, è un vero e proprio campanello d'allarme che chiede chiarezza immediata. Ancora Giampietro. Quando arriva un pignoramento in Comune per un ente che nei fatti il Comune controlla, a quel punto dovevano già scattare delle misure molto forti. Quindi noi vogliamo assolutamente dare una mano perché lente torni a fare il proprio lavoro con serenità, ma vogliamo intanto capire realmente qual è la situazione. Un campanello d'allarme che porterete anche nel prossimo Consiglio Comunale. Certamente chiederemo in aula quali sono le situazioni reali, qual è l'intenzione dell'amministrazione, perché è evidente che tutto ciò non può restare nel segreto di qualche stanza. Perché se arrivano dei pignoramenti in Comune, vuol dire che la situazione è molto grave, noi vogliamo salvare lente e porteremo in Consiglio Comunale le nostre domande affinché la maggioranza ci risponda e ci dica effettivamente cosa è successo e che intenzioni hanno per il futuro.